Firma digitale, emissione del certificato. Per firmare digitalmente il tuo documento sono necessari quattro step. 1. Acquisto di un certificato qualificato di firma digitale cloud-based, anche denominata firma digitale remota, sul nostro store. 2. Identificazione con uno dei nostri operatori. 3. Emissione del certificato di firma. 4. Firma del tuo documento. 4. Emissione del certificato. Pochi minuti dopo la video-identificazione riceverai una mail con tutte le informazioni per attivare il certificato che ti consente di utilizzare la tua firma digitale. La prima cosa che dovrai fare è installare sul tuo smartphone l'app gratuita EGU che ti servirà ogni volta che dovrai firmare. 5. Ricorda di aprire la mail dal tuo cellulare o dal tuo tablet, quindi clicca sul bottone e emetti certificato. 6. Si aprirà automaticamente l'app mobile EGU e dovrai cliccare sul tasto Accetta in basso a destra per procedere all'emissione del tuo certificato di firma digitale. 7. Il certificato comparirà immediatamente e tu dovrai soltanto confermare l'operazione cliccando sul tasto Conferma che si trova in basso. 8. A questo punto dovrai impostare un PIN di 6 cifre per te facile da ricordare, poiché lo utilizzerai ogni volta che dovrai firmare. 8. Ora hai tutto il necessario per firmare. Certificato di firma digitale e app EGU. Non ti resta che selezionare il software di firma più vicino alle tue esigenze. 5. Ricorda di firma digitale e apprezzare il software di firma digitale e apprezzare il software di firma digitale.